Buongiorno a tutti voi che siete collegati insieme a noi alle 7.30 di mattina per la rassegna stampa iniziamo insieme questa giornata all'insegna dell'informazione sfogliando i giornali questa mattina ne sfoglieremo soltanto uno il resto del Carlino perché la piattaforma sulla quale girano il messaggero e il Corriere Adriatico non era disponibile aveva problemi di server quindi non siamo riusciti a scaricare i pdf abbiamo solo il resto del Carlino e guarderemo le notizie al suo interno però come sempre facciamo prima è il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi è San Diego religioso il venerdì 13 novembre il sole è sorto alle 6.59 e tramonterà alle 16.46 venerdì 13 novembre quindi guardiamo la temperatura in questo momento al suolo che è di 7 gradi e 9 quasi 8 gradi poco più di 8 gradi però vedete c'è un tasso di umidità elevatissimo 95% perché come vedete anche dall'immagine che ci viene rimandata dalla webcam c'è una nebbia oltre nebulosa che sta insomma in questo momento prendendo possesso della città insomma nelle prime ore della mattina il fenomeno della nebbia è presente ampiamente guardiamo cosa ci dice la protezione civile che conferma appunto questo dato che ci viene mandato anche dalle immagini della webcam e come vedete la simbologia della nebbia sul crinale appenninico nelle zone interne è ben presente insieme a una vasta nuvolosità quindi cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sui settori interni e collinari nuvoloso per diffuse nubi basse in mare lungo la fascia costiera nebbie in estensione al resto della regione nel corso del tardo pomeriggio precipitazioni assenti minime in lieve aumento venti di brezza e mare quasi calmo o poco mosso quindi insomma il fenomeno della nebbia sarà presente anche per tutto il resto della giornata e anche per domani vedete addirittura tre lineette quindi qui ce ne sono due e qui invece ce ne sono tre sempre sullo stesso crinale appenninico che sono le zone interne quindi insomma un fenomeno della nebbia ancora più intenso nella giornata di domani e quindi cielo nuvoloso per diffuse e persistenti nebbie questa è l'indicazione nessuna precipitazione le temperature in discesa e mare poco mosso però con un moto ondoso in aumento 20 di brezza tesa o moderato in particolare lungo la fascia costiera vedete anche la simbologia delle onde del mare è in aumento e per domenica si va verso una situazione migliore nebbie diffuse al mattino però vedete anche qui la simbologia è limitata a due lineette soprattutto nella fascia nord della regione in diradamento a partire però nelle ore centrali della giornata precipitazioni assenti e mare mosso e temperature senza variazioni di rilievo come vi dicevo in apertura di rassegna stampa abbiamo solo il resto del carlino partiamo con la pagina di Fano che mette in primo piano appunto Sally che non ce l'ha fatta straziante addio si spegne a quattro giorni dal compleanno cordoglio per la ventunena travolta e reanimata sulla superstrada il papà di Selene dice il nostro angelo ci guarda e ci protegge dall'alto dei cieli questa è una bella immagine di Sally, questo era il suo nickname la ragazza di Cartoceto, allegra e generosa, era anche una donatrice e socia dell'Avis l'altra pagina del resto del carlino che guarda Fano nasce questo hashtag nuovo, hashtag progetti 2016, le idee per il futuro siamo nel comune di Fano, ieri lo ha presentato l'assessore Christian Fanesi ai lavori pubblici il neoassessore, idee per il futuro per intercettare fondi a disposizione quindi tra le priorità del progetto appunto ci saranno le manutenzioni, strade, cimiteri, edifici comunali ma anche la riqualificazione del centro storico, dei quartieri e degli spazi verdi e quindi insomma ampi spiragli per lavorare su questo progetto su questa task force messa negli uffici del comune per appunto trovare fondi per i lavori pubblici scuola di torrette, ufficio turistico al porto e la strada delle barche queste sono le priorità che guardano a questo progetto e poi la proposta di Mazzoni, ex sindaco, dice ospedale unico perché non fare un referendum ex sindaco appunto dice non è il caso di lasciare decidere solo ai sindaci su una questione così importante perché giustamente riguarda la salute di tutti e se i cittadini possono esprimere il loro parere su questo lui dice che è una cosa buona andiamo ancora nell'altra pagina tornati i maratonetti da New York c'è stata questa maratona c'è tutti gli anni la maratona di New York hanno corso due fanesi e con una finalità anche benefica Run for Federico naturalmente stiamo parlando del piccolo Federico affetto dal morto di Crabbe e insomma i due maratonetti li vedete qui sono Marco Savelli e Roberto Polverari che hanno corso con questi pettorali dove c'era scritto appunto Run for Federico e le medaglie nelle foto piccole appunto ieri in comune con la mamma di Federico per presentare i risultati di questa corsa benefica che ha fruttato 4.000 euro e quindi tornati i maratonetti da New York non vittoriosi sul punto di vista agonistico strettamente della maratona ma vittoriosi in termini di beneficenza Marco Savelli dice io e Roberto ci siamo fatti un regalo di compleanno speciale quindi siamo orgogliosi di questa avventura di questa pagina di sport e di solidarietà e poi gli sbancati anticipata all'anteprima al cinema si vedrà questo episodio 2 degli sbancati al cinema il 5 di dicembre e poi Marina dei Cesari terminato il dragaggio del porto turistico è stato concluso lunedì scorso anche il dragaggio all'interno del porto dei Cesari appunto della Marina dei Cesari le pagine che riguardano Pesaro per il resto del Carlino solidarietà nel cuore anche qui una bella pagina di solidarietà donato dal Leo Club e posizionato dopo il restyling parliamo di un defibrillatore e si avvia appunto il progetto del defibrillatore di strada il primo sarà installato alla palla di pomodoro corso per utilizzarlo perché chiaramente bisogna saperlo utilizzare tocca ai titolari del bar El Cid ma coinvolgeremo almeno una decina di commercianti defibrillatore che ricordiamo essere un presidio importantissimo in caso appunto di incidente cardiovascolare oppure di perdita di conoscenza spesso insomma si in caso di arresto cardiaco averlo a disposizione si evitano tragedie irreparabili e quindi insomma ben venga che ce ne siano quanto più a disposizione le statistiche internazionali Bernardi responsabile della centrale 118 dice per una città di 100.000 abitanti il rischio va dai 55 ai 113 casi di arresti cardiaci all'anno e quindi insomma capite che sono numeri che parlano da soli e che se naturalmente si ha a disposizione a pronta mano insomma un defibrillatore la vita delle persone sicuramente può essere salvata l'ultima pagina che vi propongo per questa mini resegna stampa di oggi è appunto di Pesaro mare d'inverno anche Pesaro è alle prese con dragaggi e con ostruzioni siamo alla foce del Foglia e il fiume è di nuovo ostruito però insomma lui replica alle critiche che riguardano questa vicenda della foce del fiume che ogni tanto si ostruisce per i detriti dovremmo mettere a bilancio dice l'assessore Belloni 15.000 euro l'anno la provincia in passato aveva speso molto di più in caso di Fiumana il tappo salta nessun rischio queste sono le sue considerazioni e qui dice non è stato un lavoro inutile quello che è stato fatto qualche mese fa va rifatto nuovamente in attesa di una soluzione quindi Enzo Belloni sulla barra del fiume Foglia che vedete qui in questa foto molto eloquente insomma vedete qui si praticamente forma questa ansa e qui c'è il mare e insomma questo invece è il fiume per cui insomma vedete non c'è lo sforcio sul mare però insomma in caso di Fiumana questa vedete una barriera molto piccola viene infranta però non dovrebbe esserci l'intervista il geologo Giancarlo Faina che è uno stratega delle correnti dice facciamo un foro nel moro e risolviamo questa è la sua soluzione non è colpa delle onde dice la corrente si è incentivata con l'allungamento dei moli e ora corre più veloce e per poterli aggirare invece per poterli aggirare non dobbiamo ostacolarla ecco che dice la soluzione sarebbe con uno stratagemma semplicissimo potremmo anche produrre energia per i lampioni del porto ho pronto il progetto quindi insomma sfruttare la cinetica delle onde la forza del fiume come si faceva in passato con i mulini per creare energia verde energia alternativa bene termina qui la rassegna stampa di oggi venerdì 13 novembre e quindi vi rimandiamo all'informazione per quanto riguarda appunto la nostra testata giornalistica questa sera con occhio alla notizia e la rassegna stampa tornerà domani mattina puntuale alle 7.30 buona giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti